Mi fa piacere essere qui questa mattina insieme ad Alessandro Bisato perché da Bruxelles qui nel Veneto abbiamo bisogno di persone che si impegnano per il nostro territorio e Alessandro l'ha dimostrato, quindi volentieri ho interrotto l'attività questa mattina a Bruxelles per venire qui nel Padovano a sostenere Alessandro, il suo lavoro che in Consiglio regionale ne avremo bisogno. Votiamo Alessandro Bisato. Grazie a tutti.